Scegli il tuo avversario. Mewi! Benvenuto. La tavola rotonda. Le fazioni sono stabilite. Qui non è possibile, mio signore. Qui non è possibile, mio signore. Un messaggio da Saladino. Ho bisogno di rifornirmi dalle tue scorte. Potresti inviarmi questi beni? Servono altre reclute, Sire! Potete contare su di noi. E il legname non basta, Sire. Asciaffrato Had. Servono altre reclute, Sire! Asciaffrato Had. And now I'm Don Appetite. Siamo sotto Stata Un messaggio da Re Filippo I nostri piani sono andati in fumo Cosa deve fare un re adesso? Un messaggio da Re Filippo Il nemico ci è al basso Dobbiamo essere correziosi Non dobbiamo esitare, dobbiamo resistere Un messaggio da Re Filippo L'oscurità è scesa sul mio castello Sono perduto Un messaggio da Re Filippo Un messaggio da Re Filippo Un messaggio da Re Filippo Un messaggio da Re Filippo